Ciao a tutti giovani e vecchi eleve del disegno, benvenuti, vi trovate nel canale giusto, Marionetta Matta, un canale totalmente incentrato sul disegno. E oggi sono qui davanti a voi di nero vestito per parlarvi dell'argomento inchiostrazione. E meno male che non vi dovevo parlare di arcobaleni, se no come mi sarei vestito? Boh, chi lo sa. Inchiostrazione è una fase determinante, importantissima per la realizzazione di un fumetto. Quindi da oggi inizieremo una serie di video che parleranno proprio di questo argomento. Prenderemo in esame la tavola numero 10 del mio fumetto, TESH. Infatti la scorsa settimana abbiamo visto tutti gli strumenti che io utilizzo per poter inchiostrare. Ebbene, è giunto il momento di farvi vedere come adoperarli all'atto pratico. Prima di farlo però voglio mettervi alla prova, voglio stimolarvi con un pochino di creatività, di fantasia. E allora vi chiedo di scrivere in un commento qui sotto una filastrocca che abbia come rima la parola inchiostrare. Tipo un mi piace inchiostrare lo faccio prima di andare al mare. Oppure piuttosto che inchiostrare preferisco andare a mangiare. Boh, cose così. Però utilizzando fantasia, mi raccomando, creatività, divertimento. Insomma, come sempre quello che mi stimolerà di più riceverà un bel like, un mi piace, sarà messo in primo piano rispetto agli altri commenti. E lo mostrerò nel video della prossima settimana. A proposito, questo è il commento del vincitore della scorsa settimana. E ringrazio tutti per aver partecipato a questo giochino. Bene, direi che possiamo cominciare, però prima di farlo ci tenevo a fare una precisazione. Ovviamente questo video riguarda solo l'argomento inchiostrazione. Quindi non vedrete la tavola finita, ma vedrete solo la tavola inchiostrata. I processi successivi li analizzeremo nei prossimi mesi. Però mi piace dedicarmi un po' di più sull'argomento inchiostrazione, perché lo reputo, diciamo, argomento portante per la tematica dell'anno, ovvero creare un fumetto. E allora buona visione e iniziamo con il tutorial. Bene, ci troviamo sul nostro tavolo creativo. Voi state vedendo la tavola sul foglio B4, appunto disegnata a matita, che fa riferimento a quest'altro sketch. La scorsa settimana qualcuno mi ha detto, ma perché inchiostri pure lo sketch? Lo faccio semplicemente per allenarmi, ok? Utilizzo questo metodo per potermi esercitare nell'inchiostrazione. Se volete allenarvi potete farlo anche voi. Comunque, questa tavola mi permette di avere bene sotto controllo tutti gli elementi che dovrò poi andare ad inserire. Quindi la prima cosa che faccio è quella di utilizzare il tratto pen. Il tratto pen io utilizzo lo 06 come punta e mi serve per poter andare a creare i margini delle varie vignette. Ok, quindi righello, tratto pen e si comincia. Ovviamente questo foglio B4 ha l'altà cichiri intorno quindi a tutti i righelli e le linee di riferimento per poter creare le vignette, quindi mi risulterà più semplice andare a crearle, ok? Inoltre la cosa più veloce da fare, più pratica, è quella di andare a creare prima tutte le linee orizzontali e poi tutte quelle verticali senza stare ogni volta per ogni vignetta a girare il foglio, ok? Nella seconda fase andrò a prendere la gomma e andrò a cancellare in maniera molto molto lieve il foglio per poter stemperare leggermente la matita, in questo modo. Quindi utilizzando una di queste gomme fatte a triangolo vado a lavorare praticamente di piatto così da poter evitare di andare ad intensificare su un unico punto. Lavorando di piatto io ho la possibilità, facendo veramente così in questo modo, ho la possibilità di cancellare porzioni di matita però in maniera morbida, quindi non andando a cancellare tutto alla fine, ok? Ogni tanto chiaramente bisognerà andare a pulire questa zona perché diventa nera e si riparte. Bene, è giunto il momento di prendere il nostro inchiostro, gli do una sbattuta. Comincerò prendendo il g-pen, eccolo qua. Se non sapete come funzionano questi strumenti vi rimando al video che ho fatto uscire la scorsa settimana, adesso partirà un link in alto che vi spiega insomma tutti gli strumenti che io utilizzo per poter inchiostrare. Allora, dicevamo, abbiamo il nostro fazzolettino per ripulire il g-pen, adesso possiamo cominciare. Vado ad intingere, poi vado a scaricare e posso iniziare a lavorare. La cosa migliore da fare sarebbe lavorare da sinistra verso destra, se siete chiaramente destrorsi, se siete mancini il contrario, perché così eviterete di passare il palmo della mano sull'inchiostro fresco, ok? Ovviamente questa non è e non deve essere una regola ferrea, perché anche nell'inchiostrazione c'è bisogno di lasciarsi un pochino andare, è una cosa secondo me fondamentale. Cercate possibilmente di fare delle linee non tremolanti e quindi delle linee un pochino leggermente veloci e comunque omogenee, non fermatevi con il polso, perché ovviamente il rischio è quello di non riuscire a creare una linea, diciamo, convincente e verrà tutta tremolante, ok? È importante in questa fase poter spostare, piegare il foglio come ci pare. È veramente fondamentale questa cosa, ve la consiglio. Non è un caso se anche i programmi di disegno hanno inserito la possibilità di roteare il foglio virtuale, proprio perché effettivamente è una cosa fondamentale. Tutti noi abbiamo delle linee che facciamo meglio e delle linee che facciamo peggio. Magari, che ne so, le linee orizzontali ci riescono un po' più così così, le linee verticali invece riusciamo a disegnarle meglio e allora sfruttiamo la possibilità di roteare il foglio proprio per andarci ad agevolare la vita. Cercate di essere il più rilassati possibili, perché se non siamo tesi riusciremo a trasferire un tratto più sicuro, più deciso e anche più nostro, ok? Ricordate sempre che l'inchiostro ha dei tempi di asciugatura, ok? È vero che si asciuga molto velocemente, però è anche vero che dobbiamo fare attenzione, qualora appunto come in questo caso io me ne sono andato troppo a destra, per ritornare qua sopra devo aspettare un attimino e quindi che questa zona si asciughi per bene. In alternativa possiamo semplicemente roteare il foglio e riprendere il nostro lavoro. Una delle fasi più importanti dell'inchiostrazione è proprio la modulazione del tratto, che va ad arricchire notevolmente il tratto stesso. Quindi che cosa bisogna fare? Semplicemente bisogna imparare a dosare bene la pressione della mano, come vi ho spiegato anche la scorsa settimana, perché più si preme con i pennini e più uscirà l'inchiostro, formando un tratto più largo. Mentre se non premiamo, se ci andiamo leggeri, il tratto sarà più fino. Il criterio da utilizzare principalmente sta nel... in tutto ciò che si trova davanti, quindi tutto ciò che si trova davanti andrà inchiostrato con un tratto molto più spesso. Tutto ciò che si trova sullo sfondo, in lontananza, andrà inchiostrato con un tratto molto più fino. Ma non è questo l'unico modo, diciamo, per poter inchiostrare modulando il tratto. Ci sono tante, tantissime possibilità, molte delle quali sono anche ad uso del disegnatore stesso, ok? Che sceglierà in base anche al suo gusto personale come inchiostrare, in che modo andare ad intensificare su determinati punti. Adesso vado a prendere l'altro pennino. Questo qui è il marupen, ok? Questo pennino molto molto più fino rispetto al gpen che mi permetterà di andare a lavorare appunto molto più di precisione. Che cosa faremo in quest'altra fase? Andremo a creare un pochino di vissuto sugli abiti e intorno alla vignetta, ok? In che modo? Andando a creare delle linee. Delle linee che vanno a generare un pochino l'effetto dell'ombra ma anche l'effetto del vissuto stesso, ok? In questo modo. Cercate, se potete, di variare la posizione delle linee. Infatti, non so se riuscite a vedere se la telecamera riesce ad inquadrare bene, però le linee che ho disegnato su questo, diciamo, sull'outfit di Tash vanno verso il basso in questo modo mentre quelle che ho disegnato sul ginocchio vanno in diagonale in questo modo, ok? Questi contrasti vanno in qualche modo ad intensificare la bellezza del disegno stesso. Bene, proseguiamo nel disegno andando sempre ad intensificare con queste linee che danno ombra e anche, diciamo, il vissuto degli abiti. Se dovete andare ad incrociare delle linee per poter intensificare ulteriormente l'ombra non fate delle croci quindi non fatelo in questo modo ma dovrebbe essere una cosa più tipo a forbice così da poter mantenere la tridimensionalità e il senso di profondità perché se invece andiamo a creare una croce si appiattirà tutto il disegno, ok? Quindi io in questo caso sono andato in diagonale verso l'alto come potete vedere non andrò così in diagonale verso il basso per poter andare a generare un pochino più di ombra qui in questo punto andrò a lavorare così a forbice Solitalmente con il marupen vado anche a disegnare le pietre e quindi diciamo tutta la texture della pavimentazione Quindi in sostanza dovremo cercare di giocare con queste linee utilizzando appunto queste scamotage andare di volta in volta a cambiare di direzione delle linee stesse per poter creare un po' di gioco se tutte le linee andassero nella stessa direzione purtroppo non avremo la stessa resa quindi il trucco che utilizzo io è semplicemente questo quando cambia elemento io vado a cambiare anche la posizione della linea che andrò a tratteggiare quindi in questo caso qui sono andato a fare delle linee che vanno così in diagonale leggermente verso il basso su quest'altro punto sono andato per orizzontale e qui invece andrò sicuramente da quest'altra parte cambierò verso e come sempre laddove voglio intensificare con l'ombra andrò a tratteggiare altre linee sopra quelle lì però non a croce ma a forbice ora io ipotizzo che la luce del sole venga dall'alto verso il basso proprio diciamo a destra della vignetta e quindi baserò la posizione di queste linee proprio in base a questo vedete per esempio la gamba di cadisce tutta la zona sinistra è ombrata mentre la zona a destra no anche se ovviamente ripeto un pochino di vissuto va inserito sempre per poter andare ad aumentare un pochino di credibilità proprio della vignetta stessa ok quindi qui ci troviamo in un deserto pieno di polvere ovviamente i vestiti non possono essere pulitissimi ci sarà qualche cosa di sporco e lo sporco lo vado a generare proprio con questo tipo di tratteggio in questo caso come potete vedere il volto di cadisce non è definito non si vedono gli occhi non si vede praticamente nulla semplicemente perché voi non dovete immaginare il foglio così grande ma questo poi sarà ridimensionato diventerà piccolino come un tanko bon di quelli che comprate in fumetteria e quindi ovviamente questi dettagli non si vedranno e non sarà neanche necessario mostrarli come vedete sullo sfondo io ho creato del fumo ecco anche il fumo andrà intensificato andrà creato a profondità proprio con queste strisce ok quindi andremo a creare delle strisce stavolta un po' più curve curviline proprio per dare il senso della morbidezza che corrisponde al fumo ok è capitato di tanto in tanto specie se andate veloci può capitare che la punta del marupen ma di tutti gli altri pennini che utilizzate va ad impuntarsi proprio e quindi poi vada a fare effetto catapulta di inchiostro come è successo in questo caso come potete vedere ci sono degli schizzi di inchiostro non fa niente non vi preoccupate voi andate avanti con il disegno perché tutte queste cose possono essere tranquillamente cancellate poi nella fase di clean up quindi quando si passerà direttamente in digitale bene è arrivato il momento di utilizzare il fude pen il fude pen io lo utilizzo tantissimo quando inchiostro le mie tavole proprio perché mi piace tantissimo andare ad intensificare il tratto di certi elementi soprattutto diciamo i lineamenti esterni dei vari personaggi non lo faccio su tutto dipende dalla situazione in questo caso ad esempio io voglio andare a creare la tridimensionalità vedete qui c'è il piede di cadisce che viene verso la telecamera e quindi io voglio andare ad intensificare proprio su questa zona creando un tratto molto più intenso molto più profondo proprio per ottenere questo risultato inoltre con il fude pen che è appunto un pennellone grosso che ci permette di utilizzare l'inchiostro con grandi porzioni andrò a colorare tutte le parti in nero partendo ovviamente dal corpetto di cadisce adesso andiamo ad intensificare le zone che voglio come potete vedere andando ad intensificare con il tratto quindi ad aumentare il tratto modulandolo nelle zone necessarie si riesce a creare di più il senso di tridimensionalità quindi tutta questa zona qui che sapevo si trovava davanti alla telecamera e quindi più avanti rispetto a tutto il resto sono andato ad intensificarlo in questo modo ho ottenuto quello che volevo adesso vado ad utilizzare ancora il fude pen per poter andare ad aumentare un po' la modulazione nelle zone che desidero molto bene il video finisce qui io spero veramente tanto di avervi aiutato in qualche modo se avete dei dubbi delle perplessità come sempre scrivete un commento qui sotto e io vi risponderò vi ricordo anche che domani nella mia community di disegno quella chiamata disegniamo insieme a Marinette Matta trovate il link direttamente nelle info di questo video uscirà il nuovo contest di disegno che poi diciamo sarà visualizzato nella live della prossima settimana di mercoledì prossimo quindi se parteciperete farò sicuramente vedere il vostro disegno e poi chi lo sa magari potreste arrivare fra i primi e finire come questi signorini qui nel video della prossima settimana questi sono i vincitori del contest di mercoledì scorso bene direi che ci siamo detti tutto io vi saluto buona serata e come sempre un bacio a tutti i malti del mondo muah a tutti i malti del mondo